Bisogna far cambiare le abitudini alle persone e non assisterle e cambiando che ci ritroviamo tutti sullo stesso cammino, fianco a fianco e passo dopo passo. Così padre Damiano Sella, missionario in Brasile, è convinto che solo in questo modo si riesca a dare all'uomo ciò di cui ha bisogno per un'esistenza dignitosa. Ed è sulla scia di questo insegnamento che la sesta circoscrizione Carrassi San Pasquale di Bari ha organizzato un incontro coinvolgendo grandi e piccini. Abbiamo la necessità di cambiare alla radice un modo di porsi nei confronti della vita, un modo che deve necessariamente essere proteso alla salvaguardia, rispetto e soprattutto alla valorizzazione di quelle cose antiche, se così si possono definire, ma che hanno il dono della salubrità e che possono certamente migliorarci sia in termini di qualità della vita che di abitabilità e di vivibilità dei quartieri. Ci confrontiamo con i bimbi, ma non solo con i bimbi, proprio perché crediamo nel fatto che incidere sulle giovani generazioni potrebbe darci una prospettiva. Anche perché si dice che siano più in gamba degli adulti o comunque siano più ricettivi e abbiano più voglia di intervenire e di fare? Assolutamente sì, diciamo che prima di venire all'incontro ho incontrato due classi della scuola Michelangelo assolutamente interessati per esempio alla mobilità sostenibile, quindi gli ho dato un po' di indicazioni sulle piste ciclabili in essere e quelle che saranno a breve realizzate.